Possiamo vedere un secondo, sempre il solito Bubù, che quello è un comico più che una persona, è il Bubù 2 che io ho messo, un'altra di quelle cose che sono state anche un po' raccolte dalla... eccolo qua, raccolte anche dalla gente in rete. Cosa dice? Vedi, vedi le date, no? Vedi le date, no? Abbiamo a marzo del 2021, vaccinatevi con AstraZeneca che è sicuro ed efficace, no? Bubù si firma. Pochi giorni dopo, un mese dopo, purtroppo il vaccino a AstraZeneca sembrano essere efficaci. Oppure, l'ultima scemenza, lui diceva nel 2020, l'ultima scemenza è la derivazione del coronavirus da un esperimento di laboratorio. Tranquilli, è naturale al 100% purtroppo. Poi, dopo un anno, notizia clamorosa. Alcuni studi autorevoli, insomma, ci dicono che sta cosa, che quello che aveva detto l'anno scorso era una cazzata. Ecco, come fa la gente ancora a fidarsi di queste persone? Non mi stupisce molto che la RAI continui a prenderli e dargli i soldi nostri per sparacazzate in tv. Però mi stupisce che la gente continui a crederci, a non ribellarsi di fronte ad un'imposizione di una bugia. Anche perché se me ne dici una me ne puoi dire tante, me ne puoi dire altre e mi puoi ingannare a 360 gradi. Cioè, noi ci siamo fidati. C'è una vignetta di Mario Improta che proporremo la prossima settimana, perché oggi non abbiamo tempo, che mostra le ragazze giovani di spalle che sono in paradiso e guardando sotto dicono ci siamo fidati di voi. Ok? Ecco, come può l'essere umano sulla sua salute, caro Alessandro, fidarsi di chi oggi dice una cosa, domani ne dice un'altra, o ci prende per i fondelli, o diciamo, ci prende per il culo, così me lo capiamo tutti, sulle disposizioni. Come ci si può fidare? Perché ci fida? Perché anche nelle persone cognitive non scatta questa ribellione di fronte al falso? Ti rispondo con una metafora storica, perché è quella che mi viene meglio. Che cosa raccontavano gli agenti della Gestapo e dell'SS agli ebrei che venivano rastrellati in un ghetto di Amsterdam o di una qualche città occupata dalla Wehrmacht? Raccontavano che li avrebbero portati comodamente in dei campi di lavoro dove avrebbero dovuto serenamente contribuire con le loro attività alle attività di guerra. Poi quando, come dire, li spingevano nelle famose camera gas, cosa c'era scritto fuori dalla camera gas? C'era scritto docce e gli dicevano che li avrebbero portati per fare le docce e per garantirsi un'adeguata igiene. Allora, la mente umana, dovendo scegliere tra due opzioni, mi stanno deportando o mi stanno salvando, tende a dire mi stanno salvando. Quando gli viene da dire mi stanno facendo la doccia o mi stanno gassando per poi buttarmi nel forno crematorio? Mi stanno facendo la doccia. Quindi c'è questo meccanismo. Sai che mi hai fatto venire un brivido raccontandomi questa cosa, lo sai? Ma è un meccanismo. Mi vengono quasi le lacrime perché immagino questi poveri disgraziati... Sono professori universitari, erano commercianti, erano impiegati, impiegati pubblici, non erano dei dementi. Vedi a che serve il professore psichiatra Meluzzi. Non erano dementi, capito? Non erano cretini. E nel 1938, quando gli misero la stella gialla, gli dicevano che serviva per proteggerli dai faccino rosi, che avrebbero potuto, come dire, aggredirli. Quindi il potere, quando vuole utilizzare la menzogna, la utilizza sapientemente e la menzogna funziona splendidamente. Quindi il problema non è pensare di far risvegliare la gente e raccontargli di una menzogna, ma cercare di capire qual è la strategia globale che ci sta dietro e semmai cercare di disturbare quella. Questo è il problema. Cioè tu dici che è inutile che noi cerchiamo di continuare a spiegare alla gente che sono menzogna? Purtroppo dalla maggioranza della gente non verrà nessuna soluzione. Perché se noi confronti il peso comunicativo del bollettino quotidiano che vanno ogni giorno, del discorso adesso della variante indiana e della variante delta, perché ricordatevi che i virus RNA mutano continuamente, come io ripeto, da un anno e mezzo. Quindi dopo la variante indiana avremo la variante peruviana, dopo la variante peruviana avremo la variante cilena, dopo la variante cilena avremo la variante cambogiana. Per omnia secula seculorum. Perché il disegno che sta scritto nel documento progetto Covid-19 dei nostri padroni parla di un periodo, per il periodo Covid, che ho visto recentemente in un documento in inglese, dal 2020 al 2025. Quindi fino a che questo periodo non saranno scorsi, non saranno stati raggiunti i risultati che sono stati programmati da menti raffinatissime, non si potrà passare al capitolo 2025-2030 per l'agenda 2030. Quindi è inutile che noi stiamo a parlare delle mascherine, se non capiamo che coloro che sono più intelligenti di noi sicuramente, stanno facendo marciare una roadmap che deve prevedere alcune tappe. Quindi per adesso siamo nell'era vaccinale, poi verranno le altre limitazioni, ma le finalità e gli orizzonti sono geopolitici, sociologici, economici. I virus non c'entrano niente. Cioè voglio dire, noi abbiamo avuto, noi abbiamo, noi loro, nei loro documenti, dicono testualmente che hanno trasformato una situazione influenzale, come ci sono stati tanti, in uno stato permanente. Cioè dimensioni influenzali respiratorie, ce ne sono da secoli. Nell'umanità, di fronte alle vere epidemie, sono state trascurate, ma dalla, diciamo così, dalla Spagnola in avanti, tutti gli anni ne abbiamo avuto epidemie influenzali. E la campagna di vaccinazione, poi un certo numero di morti, e poi l'asiatica. No, noi abbiamo una raccolta di tutti gli anni, poi la prossima settimana la vediamo insieme. Si è deciso di trasformare questa situazione ordinaria in un sistema di governo globale totale. Idea straordinaria, eccellente, magnifica. Un applauso ai padroni dell'elite. Però, come dire, la gente non capirà mai questo, non arriverà mai a capirlo, perché continuerà a sentire un deficiente in televisione che ieri diceva non vaccinarsi è criminale. Roba che Andreina ha mandato in galera, capito? Solo querelato per questo. Credo che fosse Tiberio Timperi. Sì, può darsi. Chi non si vaccina è criminato. Sì, ho capito, ma lui probabilmente è stato indottrinato, perché non posso pensare che sia... Non posso pensare che sia un criminale come così paradossalmente stai dicendo tu. Cioè, non ci penso proprio. Nel senso che io poi, tra l'altro conosco Tiberio, sicuramente non è un cuor di leone, ma sarà stato convinto, no? Come è stato convinto Amadeus a fare uno spot, costitita così? Come è stato convinto Bonolis? Cioè, sono stati convinti probabilmente... No, ma ragazzi, ma non è questione di essere convinti. È questione che la tenaglia si stringerà. Ieri il Presidente dell'Ordine dei Medici ha detto che i medici che non si vaccineranno saranno radiati dall'Ordine. Sì, ma lo sta minacciando ormai da tempo. La gente, la gente... Adesso stanno licenziando però i dipendenti delle Asneri. Rimangono solo un manipolo di, come dire, di eroi... Sì, ma lo fanno soltanto con quelli che hanno dei contratti che glielo consentono, perché con i medici veri, col cavolo che lo stanno facendo, perché sanno che un ricorso probabilmente potrebbe portare al crollo di tutta questa questione. Ecco, l'ultima domanda perché... Fino che Madame Cartabia non convincerà anche tutti i giudici del CSM e non ci sarà più neanche un giudice a Berlino perché bisogna fare una lettura una lettura creativa della Costituzione.